Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Apriamo con la vicenda dell'imprenditore che è stato rapinato e picchiato a Lignano. Sono state fermate quattro persone. Persone di età compresa fra i 29 e i 26 anni sono state fermate per la rapina ai danni dell'anziano imprenditore di Lignano, picchiato e derubato nella sua abitazione della cittadina balneare. Si tratta di cittadini di nazionalità albanese accusati in concorso di sequestro di persona e rapina aggravata. Erano stati fermati subito dopo la rapina dei carabini della stazione di Lignano e di Latisana. C'è anche un quinto uomo denunciato a piede libero per favoreggiamento personale. Si tratterebbe di un altro cittadino albanese che avrebbe avuto ruolo di basista. Sono in corso ulteriori indagini per fare piena chiarezza sulla vicenda. Intanto l'imprenditore picchiato e derubato resta in ospedale a Latisana. Nicolò, il giovane di grado che era rimasto bloccato in Cina a seguito dell'emergenza coronavirus è rientrato ieri dal paese asiatico, non ha più la febbre e sta bene. Lo si apprende dal bollettino medico dell'Istituto Spallanzani dove è ricoverato in isolamento. Il ragazzo era stato fermato per due volte a causa della febbre a Wuhan, città cinese, focolaio del coronavirus. Secondo il bollettino Nicolò continua ad essere in buone condizioni di salute ed è sereno e di ottimo umore. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi tra Faeris e Campeglio che ha involto una moto, una fuoriuscita autonoma di strada sul posto dei Carabinieri e due ambulanze. L'uomo non è in pericolo di vita, ha riportato però diverse fratture. E parliamo ora di soccorsi quasi da record sullo Zoncolan oggi per una giornata sugli sci. Superlavoro per i soccorritori nella giornata di oggi sullo Zoncolan per la squadra sicurezza e soccorso pista della Polizia di Stato del commissariato di Tolmezzo coordinato dal vicequestore Alessandro Miconi. Sette gli interventi di soccorso. Il più grave ha visto coinvolto un uomo di Portogruaro di 40 anni che intorno alle 14 è caduto in maniera autonoma sulla pista Lavet e ha riportato un trauma cranico commotivo. È intervenuto l'elicottero sanitario che ha portato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo non ha mai ripreso i sensi ed è stato recuperato con il verricello poiché nel punto in cui è rimasto infortunato il velivolo non poteva atterrare. Gli agenti della Polizia di Stato hanno elevato anche tre sanzioni per persone che risalivano a piedi la pista da sci e altre due perché scendevano a piedi sempre sulle piste causando pericolo. Altri interventi di soccorso. Oggi una donna è stata soccorsa questa mattina dopo essere caduta all'interno della casera Palussa in località Gler nel comune di Aviano. L'area si trova in quota 800 metri scendendo da un letto. Pare che abbia perso l'equilibrio cadendo di schiena. Sul posto la centrale Suarez di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario. Anche i vigi del fuoco e dal distaccamento di Maniago i colleghi della sede centrale di via interna a Pordenone con lo spero alpino fluviale. È stata vericellata e trasportata in volo all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Un secondo intervento è stato effettuato dalla squadra spero alpino fluviale del comando dei vigi del fuoco di Pordenone con i colleghi di Maniago. Questa mattina alle 10.30 per un ragazzo che si era infortunato vicino a Casera Sinica, 850 metri sopra Travesio. Durante un'escursione scivolato ferendosi gravemente a un polso ma le sue condizioni complessive non sono giudicate gravi. La scorsa notte a Codroipo in Piale e Zara i gnoti hanno imbrattato i cartelloni della Lega Salvini con vernice spray di colore rosso ma sono stati imbrattati anche i cartelloni pubblicitari del circo che pubblicizzavano uno spettacolo. È stata utilizzata anche in questo caso una vernice rossa ed è stata posta la scritta Animali Liberi con la A Cerchiata. Un altro danneggiamento poi sempre a Codroipo. Strappati i manifesti del circo affissi lungo via. Circo Invalazione Ovest sul caso indagano i carabinieri della stazione di Codroipo. In vista della donata nazionale degli alpini del 2021 la sezione Ana di Udine si sta già mobilitando per pianificare la logistica e l'accoglienza di migliaia di persone che arriveranno in Friuli e si fa strada l'ipotesi che la cittadella militare e l'ospedale da campo trovino posto tra il parco Moretti e il parcheggio dell'ex seminario a Civescovile. Presidente Soravito, mancano 15 mesi, ma come sta andando con la logistica? È tutto pronto? Ma è tutto pronto e niente. Perché questo? Noi abbiamo già messo tutto sulla carta perché quando abbiamo presentato la donata dovevamo fare una grossa relazione per far vedere quello che noi avevamo da offrire a chi veniva la donata. Ci stiamo lavorando principalmente, come hai detto tu, per quanto riguarda la logistica. logistica che serve per accogliere e ospitare tutta la gente che arriva da fuori, tutti gli alpini, ma le famiglie, tutti quanti. Quindi dobbiamo dire questo. Stiamo lavorando con l'ente fiera, stiamo lavorando col comune, stiamo vedendo delle aree, quelle che ovviamente ci servono per ospitare, per fare gli attendamenti, per ovviamente tutti i parcheggi delle roulotte, dei camper, degli autobus. Abbiamo in mente moltissime idee, abbiamo già trovato molti spazi, però adesso stiamo concretizzando. Uno spazio che magari sognavate di individuarlo e si è di fatto materializzato? Materializzato nel senso che dove noi dovremmo mettere la cittadella militare, la cittadella della protezione civile, oppure anche mettere il nostro ospedale da campo. Abbiamo, per fare un esempio, potrebbe essere il Parco Moretti, come potrebbe essere tutto il parcheggio interno dell'ex seminario arcivescovile. Abbiamo delle idee e ovviamente stiamo tirando le somme. E restando al capologo friulano, parliamo di un progetto al via, si chiama Udine, sta bene in strada, è stato avviato dai sindacati, dai pensionati di CGL Cisle Will. Facciamo un passo avanti verso una città più camminabile, sicura, sana, accessibile e vivibile. Questo è l'obiettivo del progetto sperimentale Udine sta bene in strada. Avviato più di un anno fa dai sindacati confederali dei pensionati CGL Cisle Will, e con la collaborazione del Comune e l'Università di Udine. Per realizzare concretamente questo obiettivo, nel dicembre scorso era stato siglato un protocollo d'intesa tra sindacati e amministrazione comunale. È di oggi il primo evento con una camminata in centro e il ritrovo a Palazzo Florio. Il progetto parte da lontano, è un progetto che nasce dai nostri sindacati nazionali con l'intento di rendere vivibile e facilitare la mobilità anche delle persone anziane. E quella di oggi è la cartolina che presenta esteticamente una delle facce del lavoro che stiamo facendo. Stiamo tentando di far vedere come potrebbe essere usufruita la città. È in accordo con l'amministrazione comunale che ha dato la sua disponibilità ed è solo uno degli aspetti del protocollo d'intesa. Quello che noi ci proponiamo è quello di partecipare insieme a Città Sane, ad altre associazioni che concorrono con il Comune a fare una città di relazioni. Capacità questa di aprire la città creando nuovi percorsi di vivibilità, sfruttare le nostre passeggiate, le nostre camminate. Anche i giovani bisogna portare. L'anziano deve accompagnare il giovane e il giovane accompagna l'anziano perché ci sono sempre più barriere architettoniche da superare. Assieme riusciamo a superarle. A Gorizia ci sono tante domande sulla costruzione otagonale che è emersa dalla terra durante i lavori per la nuova piazza di Corte Santilario a Gorizia getta nuova luce sulla storia goriziana che può vedersi ribaltata con approfonditi studi che però potrebbero non avvenire mai con la perizia necessaria in questi casi. Se l'ottagono fosse interrato nuovamente ritornerebbe nell'oblio della terra. A lanciare l'allarme alcuni storici ed appassionati goriziani che chiedono uno stop ai lavori in quella porzione di piazza. Per due mesi a fila io ho frequentato gli archivi consultando tutti i fondi che potevano darmi una risposta affermativa se erano stati fatti dei lavori di demolizione in quanto nel 1754 quando ci fu la visita nel nostro primo archivescovo Carlo Maria Ates non c'era più, lui non ne fa assolutamente notizia mentre è la data certa della pianta del Vintana che è il 1583 in quanto prima c'era e poi non c'era più. Non ho trovato nulla. Cappella di Sant'Ilario, fonte battesimale, torre, tante domande e nessuna risposta. Forse la città bassa è più antica della città alta. Ultima domanda, Gorizia è romana? Noi potremmo dare queste risposte soltanto salvando questo magnifico manufatto. Andiamo a Prepotto ora con la marcia dello Schiopettino che ha battuto ogni record di presenze. Maria Clara Forti, sinaco di Prepotto. Allora, la marcia dello Schiopettino, sesta edizione, anno 2020, ha battuto tutti i record. Quasi 6.000 iscritti. Siamo molto soddisfatti del risultato di questo grande lavoro collettivo di tutta la comunità di Prepotto in primis da parte dell'organizzatore, la Proloco di Prepotto, con a capo Luca Pavan. Senta, perché è così affascinante questo evento? Questo evento riscuote molto successo perché ogni anno la Proloco riesce a individuare nuovi percorsi e danno la possibilità ai cittadini di visitare sia zone montane che zone collinari vitate del comune di Prepotto altrimenti sconosciute. Viene data la possibilità anche di conoscere borghi rurali, chiesette votive, quindi oltre a un momento di sport e di svago dominicale c'è anche un momento culturale. In più, dà la possibilità di conoscere le nostre eccellenze enologiche che sono in primis rappresentate dallo schiopettino di Prepotto che è il principe fra i vini autoctoni friulani. Lo sport con il derby tra Udinese e Verona che oggi lo stadio Friuli è finito 0-0. Sentiamo Gotti. Abbiamo fatto quella che un tempo sarebbe stata definita una partita gagliarta, una partita tosta contro un avversario che in questo momento del campionato ha creato grandi fastidi a tutti, anche a grandi squadre. L'abbiamo affrontata cercando di vincerla con le nostre capacità, cercando di vincerla. Dal punto di vista dell'allenatore il fatto che non siamo riusciti a fare gol almeno è compensato, come ha detto lei, dal fatto che non l'abbiamo preso. Il fatto che non riusciamo a fare gol è quello che limita la produzione in classifica di questa squadra che si sta meritando perché si starebbe meritando di più di quello che ha. Dal punto di vista dell'impegno, dell'atteggiamento, di quello che ha messo in campo tutti i giocatori che sono andati, possiamo dire qualcosa a qualcuno. Allora già è una cosa bellissima che per atteggiamento, per mentalità, tu con continuità hai delle risposte da questo gruppo. E aggiungo, per gli osservatori meno attenti, che il lavoro che fanno i due attaccanti di questa squadra qua è importantissimo, è uno dei motivi per i quali questa squadra ha cominciato a giocare meglio. È tutto, l'informazione torna alle 22.15. Grazie per averci seguito, buon prossimo momento di serata, più tardi. Grazie a tutti.